Buonasera e benvenuti. Sono davvero grato a tutti voi per aver colto l'invito a partecipare a questa presentazione, presentazione che vuole proporre la figura e l'opera di Don Giussani, un sacerdote che stasera non vogliamo rievocare come un grande personaggio di un recente passaggio. Anche se è stato un grande uomo, un grande sacerdote, di cui è in corso la causa di beatificazione. Ma desideriamo, vorremmo, che l'opera e la vita di questo uomo fosse raccontata prima che dall'analisi o dalle considerazioni del suo pensiero, dalla testimonianza di chi si è imbattuto in lui, attraverso le parole di chi l'ha incontrato, direttamente, come ascolteremo, o indirettamente, anche attraverso le pagine di un libro. E gli uni e gli altri colpiti da quello che quel volto, quelle parole, quell'amicizia hanno fatto scoprire. Stupiti e commossi dell'esperienza a cui lui ci ha condotto, perché quel volto, quelle parole, quell'amicizia ci hanno fatto scoprire una cosa ancora più grande. Stasera ci condurranno in questo cammino il professor Mario Muzzo, presidente della fondazione Cassa di Risparmio della provincia di Teramo e docente presso la facoltà di giurisprudenza della LUIS di Roma, in precedenza docente presso l'Università degli Studi di Roma alla Sapienza e l'Università di Teramo. Donenio Lucantoni, parroco della Natività di Giulianova, e il dottor Alberto Savorana, autore del testo che stasera viene presentato. Comunque, prima di passare ai loro interventi, desidero ringraziare gli amici del Centro Culturale dell'Infinito di Giulianova, che hanno curato l'organizzazione di questo incontro, l'amministrazione comunale di Giulianova e la Giulianova Patrimonio, che ci hanno concesso l'uso di questa piazza e del parco, e tutte le autorità presenti. Ringrazio la società BedaFence Italia, che ha contribuito alla sponsorizzazione della serata, così come il Novo Abita Beach, Radio G e il Quotidiano alla Città, per l'accoglienza e lo spazio che hanno dedicato a questa iniziativa. Stasera abbiamo con noi, e siamo veramente grati per questo, il nostro Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Michele Seccia, che ha avuto la premura e l'affetto di partecipare a questo avvenimento, così come con noi il Sindaco, il Dottor Francesco Mastromauro, che ringrazio ancora per aver contribuito alla realizzazione di questa presentazione. Chiedo a entrambi, ad iniziare dal Signor Sindaco, di portare un saluto e a Monsignor Seccia di introdurci anche all'ascolto del tema di questa sera. Prego. Ho preso due appunti dal libro del Dottor Savorana, che saluto. Tutto per me si è svolto nella più assoluta normalità, e solo le cose che accadevano, mentre accadevano, suscitavano stupore. Tanto era Dio a operarle, facendo di esse la trama di una storia che mi accadeva e mi accade davanti agli occhi. Così rispondeva Don Giussani a chi lo chiamava il fondatore del Movimento Ecclesiale di Comunione e Liberazione. E ancora, la mia povera mamma, che ha vissuto sempre in casa, facendo la serva di tutti, aveva un senso di ciò che accadeva nel mondo, un interesse all'eco delle vicende, che lei era stato dettato inevitabilmente dalla sua fede. Io ritengo che questo è un libro che tutti dovrebbero leggere, compresi i più aspri critici di Comunione e Liberazione. La biografia di Don Giussani, scritta da Alberto Savorana, è un lungo ritratto del sacerdote Brianzolo, che secondo Gianni Riotta, della stampa, andrebbe letto da fedeli al Movimento e non, come se trattasse un personaggio storico di cui mai abbiamo sentito parlare prima, evitando cioè che i pregiudizi positivi o negativi che il fondatore di Comunione e Liberazione ha tratto a lungo su di sé, impediscano loro di riscoprire un Don Giussani inedito. Sono 1.354 pagine, una raccolta di aneddoti, incontri, viaggi, citazioni, il dipanarsi di una vita di un sacerdote innamorato di Gesù e aggrappato alla sua fede, strumento per vivere e affrontare tutte le evoluzioni storiche e sociali dell'Italia, del secondo dopoguerra. Negli anni 50 della guerra fredda continua proprio Riotta, nel 1968 che spazza le università e svuota i quadri di gioventù studentesca, nel 1977 estremista che incendia le sedi di CL e ne disperde le assemblee con pestaggi, come nella stagione in cui Comunione e Liberazione e il Movimento Popolare assumono potere nella Chiesa, nella politica italiana, nell'economia e nei media Giussani tiene un solo orientamento. Secondo il Vescovo Camisasca, Don Giussani non è stato ossessionato dal problema della modernità, ha sentito l'epoca moderna come un tempo che stava finendo, su cui non era necessario soffermarsi. Occorreva invece ripensare in termini nuovi le questioni di sempre, che la modernità aveva a suo modo reso impensabili, ricominciare da capo, riscoprire le parole fondamentali, riguardare l'uomo in azione per coglierlo nei suoi dinamismi più profondi, nelle sue attese radicali. Questo è quello che ho colto dal libro di Savorana in maniera molto sintetica, ma che mi ha fatto riscoprire tante cose che nel corso degli anni e nel suo dipanarsi mi erano sfuggite. Don Giussani è un lettore così attento della quotidianità che è stato bello riscoprire. Grazie. Prego, eccellenza. Buonasera a tutti. Complimenti all'autore per il libro. Come prevenivo, sapendo appunto che il libro sarebbe stato presentato attraverso le testimonianze di chi ha conosciuto Don Giussani, mi è a me tornata un'espressione che in qualche modo prolunga, continua, esplicita anche stasera quella intuizione pedagogica di Don Giussani di vivere la normalità, la quotidianità come evento. L'evento che accade, ma è l'evento che lascia una braccia. E allora se questo accadimento è un evento, vuol dire che deve essere memoria viva, un'espressione che ripeto sempre ai preti, ma non perché celebriamo l'eucaristia, l'atto di fede, ma perché quando l'evento ha lasciato una traccia nella vita, questa traccia rimane quotidiana. Ecco perché siete tanti stasera. Perché ciò che avete ricevuto, che abbiamo ricevuto in un modo o nell'altro diventa per noi un modo che ci invita a guardare non solo la vita, ciò che accade, ma come in ciò che accade dobbiamo mettere la nostra pietra, il nostro mattone, il nostro contributo alla società, alla fede come testimonianza. E credo che sarà la ricchezza di questa sera. Grazie all'autore e grazie a tutti quanti voi. Grazie eccellenza. Ora ascoltiamo due canti eseguiti dal coro di comunione e liberazione di Giulianova, uno della tradizione abruzzese, che conosciamo tutti, lontane e più lontane, ed uno sudamericano, o io d'ossiero, occhi del cielo. Entrambi esprimono lo struggimento dell'animo umano per una grandezza di compimento, attesa, desiderata, necessaria. Proprio ciò che Don Giustani ci ha insegnato come la più grande risorsa del nostro cuore per riconoscere ciò che lo può compiere. Don Giustani ci ha insegnato come la più grande risorsa del nostro cuore per riconoscere il nostro cuore per riconoscere il nostro cuore per riconoscere. Don Giustani ci ha insegnato come la più grande risorsa del nostro cuore per riconoscere. Don Giustani ci ha insegnato come la più grande risorsa del nostro cuore per riconoscere il nostro cuore per riconoscere. Don Giustani ci ha insegnato come la più grande risorsa del nostro cuore per riconoscere il nostro cuore per riconoscere il nostro cuore per riconoscere. Don Giustani ci ha insegnato come la più grande risorsa del nostro cuore per riconoscere il nostro cuore per riconoscere. Don Giustani ci ha insegnato come la più grande risorsa del nostro cuore per riconoscere il nostro cuore per riconoscere il nostro cuore per riconoscere. Don Giustani ci ha insegnato come la più grande risorsa del nostro cuore per riconoscere. Don Giustani ci ha insegnato come la più grande risorsa del nostro cuore per riconoscere il nostro cuore per riconoscere. Don Giustani ci ha insegnato come la più grande risorsa del nostro cuore per riconoscere. Don Giustani ci ha insegnato come la più grande risorsa del nostro cuore per riconoscere. Don Giustani ci ha insegnato come la più grande risorsa del nostro cuore per riconoscere. Don Giustani ci ha insegnato come la più grande risorsa del nostro cuore per riconoscere. Don Giustani ci ha insegnato come la più grande risorsa del nostro cuore per riconoscere. Don Giustani ci ha insegnato come la più grande risorsa del nostro cuore per riconoscere. Don Giustani ci ha insegnato come la più grande risorsa del nostro cuore per riconoscere. Don Giustani ci ha insegnato come la più grande risorsa del nostro cuore per ritorno. Se guardo il fondo dei tuoi occhi teneri, mi si cancella il mondo con tutto il suo inferno. Mi si cancella il mondo contro il cielo quando mi tuffo nei tuoi occhi teneri. Occhi di cielo, occhi di cielo, non abbandonarmi in pieno volo. Occhi di cielo, occhi di cielo, tutta la mia vita per questo sogno. Se io mi dimenticassi di ciò che è vero, se io mi allontanassi da ciò che è sincero, i tuoi occhi di cielo me lo ricorderebbero, se io mi allontanassi dal vero. Se il sole che mi illumina un giorno si spegnesse e una notte buia vincesse sulla mia vita, i tuoi occhi di cielo mi illuminerebbero, i tuoi occhi sinceri che sono per me cammino e guida. Occhi di cielo, occhi di cielo, non abbandonarebbero, se io mi allontanassi da ciò che sono per me cammino e guida. Occhi di cielo, occhi di cielo, non abbandonarebbero, se io mi allontanassi da ciò che sono per me cammino e guida. Occhi di cielo, occhi di cielo, Oh, 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 oh. Ojos de cielo, ojos de cielo, non mi abandone sempre non muero Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, si el sol te me alumbra, s'apagará un día Y una noche oscura ganará mi vida Ojos de cielo me iluminaría, ojos de cielo me da mi guía Ojos de cielo, ojos de cielo, no mi abandone sempre non muero Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Bene, ora prima di passare agli interventi dei nostri ospiti abbiamo un breve video della trattata di alcuni minuti che ci introduce alla figura di Don Giussani Perché l'aspettavano così? Perché credo in quello che dico Questo basta? Sì Non, 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 non Quindi la croce è il principio della nostra liberazione, pur nell'unico dolore per la naturale miseria, siamo liberi e perciò in cammino dentro il mondo per portare ad altri questa libertà di cui Cristo ci ha liberati. Cerca di essere giovane, giovane di spirito. Anzi, Santità, mi perdoni, siccome uno di noi ha fatto un canto a Rimini sul Parsifal, siccome dura un minuto si potrebbe cantare. Grazie. L'esistenza si esprime come ultimo ideale nella mendicanza. Il vero protagonista della storia è il mendicante, cioè Cristo, mendicante del cuore dell'uomo e il cuore dell'uomo mendicante di Cristo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Che cosa da ora il campo di sé? Così è sciolto nel mondo il senso, rispetto, rinnazioni, attaccamento, amore, fiducia, responsabilità alla persona, la persona. La mia vicenda è la vicenda di tanti che volendo bene i giovani riescono, per grazia di Dio in questo senso si può chiamare carisma, per grazia di Dio riescono a comunicare loro certezze e affettività di cui altrimenti sembrerebbero incapaci. Dare la propria vita per Dio. Ci richiama una frase di Gesù. Nessuno ama tanto come chi dà la vita per i propri amici. Indubbiamente dovresti essere, oh Signore, l'amico per eccellenza. Io auguro a me e a voi di non stare mai tranquilli, mai più tranquilli. Grazie. Ringraziamoci vicendevolmente Della carità accogliente con cui oggi abbiamo pregato e camminato e vissuto insieme. E tale carità diventi l'ideale di ogni giornata. Della 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 carità diventi l'ideale di ogni giornata. Grazie a tutti. Che mi sono posto è perché io non ho avuto la fortuna di conoscere di persone Don Giussani, non appartengo a comunione e liberazione, di mestiere faccio lo studioso di diritto civile, perché sono un cattolico, spero, in cammino ma sicuramente molto lontano dalla media. L'unica cosa nella quale mi posso sentire giustificato per partecipare a questo momento, a questa esperienza, è che la mia vita è stata incentrata sull'impegno e sull'esperienza della formazione dei giovani. Mi sono sempre sentito, pur avendo fatto tante cose diverse, mi sono sempre sentito essenzialmente un professore. Ho sempre sentito come impegno della mia vita quello di fare ricerca, come si dice con una parola importante, di cercare la verità, di sforzarmi di cercare la verità e poi di trasmetterla a quelli ai quali ero chiamato a insegnare. Questo è un momento di contatto molto forte che poi ha costituito per me la chiave di lettura del libro di Saurana e il senso di avvicinamento, di presenza, di compresenza con Don Giussani in questa esperienza. Credo però che la ragione vera per la quale io sono stato chiamato è che nel metodo di Don Giussani c'è quello del confronto fra esperienze diverse, tra portatori di idee diverse e anche di diverse concezioni del mondo al di là delle singole idee nel convincimento che dal confronto emerge l'idea più vera. Il modo per confrontarsi con il mondo, per cogliere ciò che serve al mondo non è quello di chiudersi nella propria verità e di rifiutare la verità degli altri o il confronto con gli altri, ma al contrario, di aprirsi al dialogo con una certezza, quella che abbiamo poi sentito nel video, detta direttamente da Don Giussani. Credo in quello che dico, sono convinto che quello che dico sia la verità, perciò non posso avere paura di nulla. Sono sicuro che riuscirò a partecipare agli altri per la forza del mio convincimento e a trasmettere agli altri la mia verità. Credo che in questa prospettiva di dialogo, di confronto e di dialogo, anche io sia stato chiamato a dare una testimonianza. A dare la testimonianza, cioè dell'incontro con Don Giussani che si è realizzato per me specificamente attraverso la lettura del libro. Che è un luogo, il libro, è un luogo nel quale davvero si incontra Don Giussani. Perché il modo in cui il libro è costruito, la concatenazione logica delle testimonianze su Don Giussani, delle parole di Don Giussani, della riflessione dell'autore hanno la forza di rappresentare la realtà di un'idea e di una persona in modo talmente vivace da dare la possibilità all'autore di incontrarla, di incontrare la persona e di incontrare le idee. E in questa testimonianza io parterò dal libro per poi arrivare alla persona. Due parole sul libro, questo fa un po' più parte del mio mestiere, quello cioè di leggere il libro in senso critico, che non vuol dire la critica negativa ma anche quella positiva. Il libro intanto è molto chiaro, è scritto molto bene e dà una rappresentazione di un periodo storico lungo e importante della esperienza del nostro paese, quello che va sostanzialmente dall'inizio della guerra, della seconda guerra mondiale fino ai primi anni del 2000 e la dà attraverso la prospettiva delle idee, degli scontri, dei problemi della società italiani che sono state caratteristiche di questi momenti e che rappresentano momenti fondamentali della vita di Don Giussani perché ognuna di queste esperienze, l'esperienza, ognuna di queste esperienze ha costituito un tassello della costruzione della sua opera, della sua idea e della sua opera. Da ogni momento del tempo che ha vissuto ha tratto degli elementi, degli elementi della sua riflessione e degli elementi della sua attività. Qual è il mondo che emerge negli anni, cominciamo dagli anni 50, all'inizio degli anni 50, quindi l'immediato dopo guerra? E emerge una società fortemente divisa, fortemente molto piena di contrasti, in cui si muovono contrapposte due forze, due grandi forze. la forza della Chiesa, quindi quella nella quale vive Don Giussani, e la forza dell'anticlericalismo, nel quale confluiscono due linee di pensiero che sono fondamentalmente diverse, ma unite nella opposizione alla Chiesa. Cioè le idee del mondo liberale, liberale e razionalista, e le idee marxiste, marxiane. E Don Giussani vive questa contrapposizione, non come rifiuto pregiudiziale, perché una delle caratteristiche che ho riconosciuto in lui, e di cui credo si debba dare qui la testimonianza, è il rifiuto radicale di qualunque preconcetto, pregiudizio, rifiuto dell'altro. Anzi, l'idea costante è che in chiunque altro c'è una ricchezza che va esplorata fino in fondo, perché in chiunque altro si possono trovare elementi che arricchiscono la propria vita e consentono di riflettere e di portare avanti un pensiero di verità che poi si comunica agli altri, si può comunicare a tutti gli altri. Il punto invece su cui si ferma l'idea di Don Giussani, che secondo me è una delle idee cardine di tutta la sua esperienza e rimane, come dirò poi, un'idea cardine nel nostro tempo, in questo presente tempo che stiamo vivendo, è che nulla si può dare come scontato. Qualunque idea, se è vissuta come un fatto storico letterario, della quale ci si compiace, ma dalla quale non si traggono comportamenti reali della propria vita, anzi rimane separato, la propria vita fa parte di quella che lui chiama la cultura morta, cioè una cultura che non è più in grado di produrre nulla di nuovo nell'esperienza reale del mondo, mentre invece è necessario una prospettiva completamente diversa, che è quella di prendere sempre dalla vita gli elementi di riflessione attraverso i quali si riapplica alla realtà, quella che si ritiene la verità. Questa verità per Don Giussani è la verità che nasce dalla sua fede, è una verità fissa e immutabile nella sua essenza, ma è una verità di cui modi di espressione e di comunicazione sono diversi a seconda del tempo nel quale questa comunicazione avviene. Io credo che questa sia un'altra intuizione fondamentale, cioè quella che anche quando si esprimono, si partecipano idee in sé fisse, non mutabili nella loro essenza, però i modi della comunicazione, i bisogni che con queste idee si debbano risolvere mutano e in relazione al mutare dei bisogni e dei modi della comunicazione si riesce a riattualizzare continuamente la verità, anche la verità immutabile, in sé immutabile. Questo momento attraversa tutto il pensiero di Don Giussani e si traduce, mi sembra, nella sua idea che ognuno di noi, la società in generale, ma anche ognuno di noi, è costantemente in cammino. In cammino perché, come dimostra la sua vita, anche quando si è avuta l'intuizione del giusto e si è convinti che quella intuizione si sia tradotta in opere giuste, si vede che quella intuizione si sia tradotta in opere giuste, il processo non è mai concluso e questo mi sembra che si manifesti al di là dell'affermazione di principio, teorica, importante, del movimento proprio inteso come cammino. e cioè nel fatto che l'esperienza di Don Giussani e anche le opere di Don Giussani non nascono fin dal momento iniziale tutte belle, perfette e complete in sé stesso, nascono come tentativi, nascono come esperienza, come lui dice, come esperimento potremmo dire, ma poi questa esperienza o questo esperimento nel tempo si modifica e si arricchisce anche sulla base di osservazioni specifiche che vengono nei momenti più vari e dalle persone più varie ma che vengono colte come momenti che consentono di fare un passaggio ulteriore, uno svolgimento ulteriore. e questo dal libro risulta come momento costante di tutta l'esperienza e fino alla fine dell'esperienza di Don Giussani che trova sempre, con stupore, trova sempre qualche cosa di nuovo, qualche cosa che può essere proposta e che può migliorare, facilitare il cammino degli altri, così come c'è una costante capacità di vedere i difetti del cammino, cioè i momenti nei quali il cammino finisce per riflettere un'ambizione personale o un personale desiderio di affermazione e non più essere testimonianza dell'idea che invece regge tutto questo sistema. Don Giussani ritiene che proprio questa idea fondamentale, l'idea cioè che noi siamo noi, cioè quelli che si riconoscono nell'esperienza del cristianesimo, sono portatori di una verità fondamentale, consente poi il confronto, consente la crescita, consente lo sviluppo, consente il movimento, consente appunto di non fermarsi, consente soprattutto di creare un tessuto fra le persone che si riconoscono in queste idee comune che serve a ricostituire il più ampio tessuto sociale all'interno del quale queste operano. Un altro momento importante e questo come ho detto già di straordinaria attualità mi sembra infatti questo, dall'inizio dell'esperienza dell'insegnamento di Don Giussani all'inizio degli anni 50 fino a tutto il tempo successivo la storia dell'Italia è segnata dalle contraposizioni, quelle dell'immediato dopo guerra, poi il 68, poi l'attentato al Papa, poi le guerre in Medio Oriente, quelle che ancora stiamo vivendo e così via. L'idea è che tutto questo nasce da uno sfilacciamento del tessuto sociale, da uno sfrangiamento del tessuto sociale per cui la non condivisione di un minimo etico comune comporta che ognuno sia nemico o possa essere nemico rispetto all'altro. L'idea di fondo è che bisogna ripartire dall'inizio per ricostituire questo tessuto e questo tessuto viene ricostituito logicamente partendo dai più giovani, dalla scuola. La scelta di andare ad insegnare è l'espressione di questo convincimento, bisogna cominciare da lì, bisogna cominciare a ricreare da dove lo sfaldamento ha cominciato a proporsi, le incertezze, le contraposizioni, il relativismo delle idee ha cominciato a prodursi per diventare attraverso la testimonianza individuale di ognuno un punto di riferimento convincente e che possa favorire nuovamente l'aggregazione. Bene, questo mi sembra che sia una cosa che noi potremmo ripetere esattamente negli stessi termini nel momento che stiamo vivendo. La vera difficoltà del momento che stiamo vivendo credo possa essere colta al di là della crisi economica, al di là degli scandali di cui stiamo facendo l'esperienza, proprio in uno sfilacciamento del tessuto sociale e della tenuta etica della nostra società. Se noi non ricominciamo a ricostituire il tessuto e assicurare il minimo di tenuta etica di questa società, credo che tutti gli sforzi di miglioramento del nostro sistema giuridico, giudiziario, economico, daranno certamente dei risultati, ma non risolveranno il nostro problema di fondo. Come si fa a farlo? Anche qui io credo che l'incontro con Don Giussani sia importante, perché ci dà una chiave, ci dà una chiave che poi ognuno potrà rivivere nella sua individualità, nella sua specificità e ripresentare a seconda di quelli che sono le sue naturali vocazioni e le sue specifiche tendenze. Ma l'elemento comune credo che sia quello che ognuno di noi deve dare una testimonianza. Deve dare una testimonianza e il modo con il quale si può dare la testimonianza è l'integrità, l'integralità della vita. Cioè non si può dare la testimonianza, questo mi ha molto convinto e mi è sembrata una delle idee forti, non si può dare una testimonianza in un settore, in un pezzo della propria vita e poi vivere in modo del tutto diverso un altro pezzo della propria vita come se fossero sfere separate, non comunicanti, per cui il primo pezzo già basta. Credo che siamo chiamati, ripeto sempre frasi che ho letto nel libro, tutti quanti in un momento anche così difficile come quello che stiamo vivendo, alla serietà, alla serietà della vita. La serietà della vita vuol dire coerenza, vuol dire capacità attraverso la coerenza di dare testimonianza, che poi non è una grande cosa, non è che bisogna fare grandi cose per dare la testimonianza, bisogna soltanto vivere e vivere possibilmente tenendo presente che la nostra vita non è soltanto nostra, ma è anche di tutte le persone che ci stanno intorno, a ognuna delle quali noi possiamo dare qualche cosa se riusciamo a mantenere questo valore, che secondo me è un valore universale poi, perché per noi cattolici il valore è quello che deriva dalla nostra fede, ma ogni uomo ha un valore. E se riesce ad essere coerente con il suo valore e a dare una testimonianza di coerenza, credo che ponga le basi perché quantomeno un dialogo si possa avviare. Poi nel dialogo, come dice Don Giussani, prevale chi ha idea più forte. Questo è la mia testimonianza sull'incontro con il libro e sull'incontro attraverso il libro con Don Giussani e con l'attualità del pensiero di Don Giussani. Non ho altre cose da aggiungere perché credo di avere espresso quello che ho ricevuto, quello che sono stato capace di ricevere dalla lettura. Il mio intervento è soprattutto un dovere di gratitudine. Una gratitudine personale a Don Giussani che mi ha considerato sempre amico e che mi ha dato un nuovo entusiasmo nella mia missione sacerdotale. L'incontro con Don Giussani risale agli anni 70, da dieci anni io ero qui a Giulianova, dove sono arrivato giovane, inesperto, però molto entusiasta. e mi sono dato all'azione cattolica, ai giovani, agli adulti, allora c'erano i quattro rami. Ecco, l'incontro con Don Giussani ha arricchito il mio sacerdozio, la mia fede, ha, direi, allargato un po' proprio il senso della cattolicità. Perciò mi sento grato a Don Giussani. E questa gratitudine è anche da parte della comunità, tutta la comunità parrocchiale, perché proprio dal 71 in poi, da questi incontri, prima con gli esili e poi con lui, da questi incontri è fiorita la parrocchia, non solo è rifiorita la parrocchia, ma poi, ecco, è stato possibile anche valorizzare altre risorse, altre realtà ecclesiali, perché Don Giussani, se uno lo capiva bene, non ha mai chiuso la sua opera pastorale evangelica alle altre realtà, lui diceva, se fossi parroco farei lo scautismo. Quindi, ecco, la ricchezza della fede apre alla pluralità delle esperienze di fede. Ecco, questa gratitudine è anche perché ha avuto pazienza nei miei confronti, perché io non sempre, è vero, sono stato proprio, ecco, obbediente, fedele. Mi ricordo che per un tempo non andavo più agli incontri e quando decisi di riprendere gli incontri, andai, non mi ricordo in quale città ci fu questo ritiro dei predici, andai e ricordo che mentre lui faceva la meditazione mi vide nascosto tra gli altri e si fermò ed espresse la gioia di rivedermi. Ecco, si ti faceva sentire proprio il calore di un'amicizia, perciò sono molto grato. Poi, ecco, la lettura del libro. La lettura del libro per me è stata come una meditazione, un libro che si fa leggere, soprattutto che ricrea lo spirito. Io, ecco, devo dire che la prima impressione che ha avuto leggendo proprio dall'infanzia, poi la vita di seminario, poi il sacerdozio da giovane di Don Giussani, poi tutta la sua opera, e ho scoperto che veramente ci siamo trovati e ci troviamo di fronte a un santo. E devo dire che ho cominciato a pregarlo personalmente, privatamente, perché io non devo canonizzare nessuno, però sento che questo uomo, questo sacerdote con cui ho vissuto un'amicizia, ora mi può aiutare dal paradiso. E perciò vivo anche questo tipo di rapporto soprannaturale con lui, con questo sacerdote che ha dato sempre testimonianza di verità, di forza, di fedeltà alla Chiesa, di obbedienza, di povertà e di dedizione piena all'uomo, alla persona. A questo punto vorrei leggere due aneddoti in questo libro che mi sono piaciuti. Uno riguarda l'affezione di Don Giussani a Cristo, perché questa è la caratteristica, questa affezione a Cristo. Leggo. Nel luglio 1945 Giussani rivela l'animus con cui inizia la nuova vita sacerdotale. Tutta l'attività e la gioia, la felicità, il lavoro, l'ansia di nostra vita, altro non deve essere che lo sforzo appassionato di comprendere, di sentire, di volere sempre più questo legame personale con l'amore infinito. E la malinconia nostra è quella di non poterlo vedere, sentire, toccare come le cose di qua giù, sì che troppe volte i simboli tentano di prenderci la mano e smorzare nella nebbia terrena lo slancio dell'abbraccio appassionato verso di lui. Una volta sacerdoti questa malinconia diventa acutissima, perché ormai si sente che si è unum, impastati con lui, che non c'è più nulla, nemmeno la divinità, che sia solo suo. Alla consacrazione, nella confessione, il prete non compie atti divini, che gioia. Prima, alla sera, avanti di addormentarmi, cacciavo la testa fuori dalle coperte a lanciare un bacio al tabernacolo dove si trovava l'ostia con cui mi sarei comunicato la mattina dopo. Ora, non più ad una chiesa, il bacio lo lancio al cielo, l'amico viene direttamente di là. E mi piace questo amore a Cristo, che è tutto. Poi vi voglio leggere anche un brano sulla caritativa, perché proprio in questi tempi la chiesa e le parrocchie sono molto impegnate, impegnate giustamente nella caritativa, in tanti sensi. Adesso vi leggo un'esperienza qui. Durante una scuola di dirigenti del 1958-59, Giussani afferma che l'attività più importante di IGS è la caritativa. La medesima preoccupazione emerge nella scuola di dirigenti successiva. Bisogna convivere con tutti, condividere la vita di tutti, mettere in comune con chiunque. È una legge senza confini, universale, è la legge della cattolicità. In questa legge misurare, delimitare coinciderebbe con lo stroncare la legge stessa. Porle un limite, non è limitarla, è un cambiarla sostanzialmente. Un esempio. Marco Martini è uno dei giovani ai quali Giussani propone di andare la domenica nei paesi della Bassa. C'era una situazione di reale difficoltà e miseria. E anche la chiesa non riusciva a venire incontro adeguatamente a tale problema. L'idea fondamentale era quella della condivisione. A questo proposito c'è un episodio che si è fissato nella sua memoria. Durante un incontro, un ragazzo racconta di aver dato del denaro a una donna molto povera e di essere rimasto negativamente colpito dal fatto che quella donna lo abbia usato per coberarsi un rossetto. Giussani gli rispose che non aveva capito nulla della condivisione perché non accettava il bisogno dell'altro ma voleva imporre il proprio schema moralistico. Non capiva che in quel momento per quella donna poteva essere un reale bisogno quello di sentirsi più curata, più bella. Sono esempi che ci fanno capire l'apertura del cuore e soprattutto sono importanti in questo momento per noi, per me. Voglio passare adesso all'incontro di don Giussani nella parrocchia. Prima di incontrare don Giussani vi ho detto che abbiamo incontrato i ragazzi della GS. risale verso il 70, io avevo un bel gruppo di giovani, un bel gruppo di ragazzi che però bisognava un po' difendere dal vento della ribellione che erano gli anni della contestazione. notai, era l'anno 70, 69-70, non ricordo bene adesso esatto, però mi ricordo l'episodio perché vedevo questi giovani che venivano in chiesa e recitavano le lodi. La prima volta cercai di trovare il prete perché ci sarà il prete che fa pregare questi giovani e invece il prete non c'era e io dissi tra di me come? Io per far pregare i giovani ci devo stare perché devo dire pregate, venite con me a pregare invece questi senza preti e pregano così. E allora li avvicinai, facemmo amicizia, erano di Varese, cominciammo un po' a trattare con gli altri ragazzi, li portai a far conoscere il gruppo, poi nel 71 andammo, un bel gruppo di ragazzi, andammo a Varese in treno e ci fu quindi il primo incontro con questa realtà fresca e cominciò l'avventura per la nostra parrocchia di questa novità. E fu veramente una risorsa perché poi in secondo momento cominciarono gli incontri anche qui, c'era un gruppo ad Isola del Gran Sasso, poi a Termoli e facevamo incontri interparrocchiali molto profiqui e fu veramente una bella esperienza che ricordo con gratitudine. Don Giussani venne diverse volte, due o tre volte sicuramente. Io ricordo due incontri di Don Giussani nella nostra parrocchia. Uno nel settembre del 1979 e un altro il 26 prima di questo, il 26 febbraio del 78. Vi dico queste date perché io ho ancora gli appunti di allora, ho tanti quaderni pieni di appunti e sono andato a ritrovare questi quaderni e ho trovato questi momenti di Don Giussani in vista della nostra parrocchia. Nel 79 fu un incontro pubblico in chiesa, invece quello del 78 lo ho appuntato meglio perché fu un incontro di diaconia regionale e locale proprio nella canonica della nostra parrocchia. E io vi voglio dire un po' la sintesi che Don Giussani fece di questo incontro perché mi sembra molto attuale, mi sembra di far conoscere proprio lo spirito di questo santo uomo. Ci sono tre punti con i quali Giussani conclude questo incontro della diaconia. Primo punto, dice lui, questi sono appunti miei, quindi me ne prendo io la responsabilità, quello che siamo chiamati a fare è mosso dallo Spirito Santo, quindi dalla grazia del battesimo. Perciò la valorizzazione ad oltranza delle persone. Una libertà profonda, grande per costruire, cercare, formare alla corresponsabilità. Questo è il primo punto. Secondo punto, tutta questa ricchezza creativa e libera sia ordinata come l'acqua in un alveo. Perciò riferimento non fiscale alla diaconia. Il riferimento è un sacrificio. Ci vuole, da parte di chi è impegnato all'azione educativa, ci vuole la pazienza e la pazienza è di andare avanti con tutti a costo di andare avanti più ad agio. Io vi riporto i pensieri che ho appuntato allora. Terzo punto, la nostra passione è diventare presenza. Questo è un punto fondamentale del cammino di Cielo nella storia. La nostra passione è diventare presenza, è suscitare presenza dentro le situazioni. È un modo di essere corpo di Cristo, presenza di Cristo oggi, la Chiesa che ha come punto fondamentale la nostra unità, l'accoglienza di noi perché riaccada il mistero. Questi tre punti che sono una sintesi che io ho conservato, li trovo molto validi e molto attuali anche per la nostra esperienza di oggi. Poi aggiunge anche che è importante una comunità di adulti nella fede, perché una comunità di adulti nella fede genera alla fede. Questo ricordo, che per me è sempre fonte di grande edificazione, lo trovo attuale in una circostanza che sto vivendo, che stiamo vivendo noi in barrocchia, è l'occasione del quarantennio della consacrazione della nostra Chiesa barrocchiale. Abbiamo celebrato con il Vescovo il 29 giugno questo quarantennio della consacrazione della Chiesa. E in questa occasione io ho detto che bisogna fare un nuovo inizio della nostra vita cristiana, come avvenne ai 40 anni or sono. Un nuovo inizio. E ho trovato in questo libro uno spunto bellissimo che parla di questo nuovo inizio. Ve lo leggo e poi volgo alla fine, perché sennò allungo troppo. All'inizio di novembre 2004, Giussani sceglie le frasi per il volantone natalizio di CL, che ogni anno propone a tutti come aiuto per vivere in maniera più consapevole il Natale. Dopo aver valutato i suggerimenti ricevuti, decide di porre sotto un'immagine della Madonna di San Giovanni di Federico Parocci una frase di Cesare Pavese. Dice così, l'unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare. Sempre, ad ogni istante. È sorprendente pensare come Giussani si senta descritto da queste parole dello scrittore all'età di 82 anni. Allo stremo delle forze è limitato nei movimenti. Il pensiero del Natale rinnova in lui la coscienza che la vita è bella perché ogni momento è un inizio, sempre e comunque. Con queste parole potrebbe essere riassunta tutta la storia di Giussani che ha vissuto ogni istante come l'avventura di una scoperta continua di sé degli altri e del mondo. Ed io a questo punto voglio pregare Don Giussani che questo nuovo inizio riaccada per davvero, per ciascuno di noi e per la mia comunità parrocchiale e per tutti voi che siete qui tanto numerosi e che meno male che non vi vedo tanto così non sono intimorito. ma è veramente un augurio cordiale che faccia a tutti voi che possiate gustare un nuovo inizio sulla strada della fede, della gioia, della presenza di Cristo che è l'unica speranza personale e del mondo. grazie. bene, ora la parola all'autore del libro al dottor Alberto Saurano. tu dicevi introducendo che quella di questa sera non sarebbe stata una commemorazione non so se l'avete notato io sì anche perché è un'esperienza che si ripete in me da diversi mesi ad ogni presentazione ne ho fatte più di 50 su Esu per l'Italia chi mi ha preceduto ha usato il tempo presente per parlare di Don Giussani e questa è una cosa che mi sorprende sempre Don Giussani è morto nove anni fa sepolto eppure accostare qualche momento della sua vita qualche episodio della sua lunga esistenza illumina qualche aspetto qualche situazione qualche circostanza del presente lo rende presente non qualcosa di lontano grande oggetto di devozione da rispettare e onorare da morto ma qualcuno che ha da dire qualcosa oggi questo è per me uno dei dati più sorprendenti della vita di Don Giussani ed è anche ai miei occhi una delle testimonianze più clamorose del fatto che Don Giussani ha dato la vita per qualcosa di più grande di se stesso come disse l'allora cardinale Ratzinger all'omelia per il suo funerale e Don Giussani non legava a sé ma ad altro cioè Cristo e questo lo ha reso padre di molti e quella di Don Giussani è una vita che continua il sindaco ha giustamente citato una delle frasi per me più significative mai dette da Don Giussani che dice il giorno prima dei suoi 80 anni tutto per me si è svolto nella più assoluta normalità Don Giussani aveva la coscienza vivissima che la sua vita era una vita normale certo eccezionale grande molto significativa per tanti non saremmo qui questa sera a ricordarlo eppure è una vita fatta di istanti normali che Don Giussani a differenza di me per esempio ha preso in considerazione seriamente non ha disprezzato fin da quando era bambino col papà e la mamma a casa prima dei dieci anni perché a dieci anni Don Giussani va in seminario e impara dalla realtà dalle circostanze della sua vita se quando ero piccolo andavo per strada e il mio papà non mi avesse stretto la mano dicendomi di buongiorno io non avrei imparato il senso degli altri e se la mia povera mamma la sera rimboccandomi le coperte non mi avesse detto pensa ai bambini poveri che oggi non hanno avuto da mangiare pensa al Giappone pensa alla guerra in Cina io non avrei imparato il senso del mondo l'esperienza Don Giussani ha imparato tutto dalla sua esperienza non aveva altro per fare la sua strada che le circostanze della vita la realtà il problema è che come diceva molto significativamente su eccellenza Don Giussani ha vissuto la normalità come evento cioè le circostanze come qualcosa che portavano un significato un'attesa un compimento e questo accade in un momento molto preciso dell'esistenza di Don Giussani accade intorno ai 15 anni dopo che per due anni era stato in crisi era in crisi perché nulla e nessuno sembravano in qualche modo colmare soddisfare le esigenze le domande di lui adolescente 13enne che senso ha la vita è possibile essere felici c'è la verità c'è la bellezza Don Giussani è travagliato da questo i registri del seminario lo segnano che in quell'anno c'è qualcosa che non va è chiacchierino facile il bisticcio un po' disordinato e trova un amico solo uno all'altezza di queste sue domande si chiama Giacomo Leopardi in un'estate impara tutte le sue poesie a memoria allora si capisce diceva il sindaco come mai Don Giussani non era ossessionato dalla modernità pensate che a 13 anni diventa amico in modo ideale perché era morto da un secolo e mezzo di Giacomo Leopardi l'emblema della modernità il pessimista il razionalista il negatore colui che rifiuta la fede la religione altro che ossessione Giusani sente tutta la domanda tutta l'esigenza tutta l'attesa che c'è nella modernità e diventa amico dice che sarà il compagno il più grande compagno del suo itinerario religioso di Giacomo Leopardi finché succede il bel giorno sia il professor Nuzzo che Don Ennio hanno ricordato l'incontro con Cristo la figura di Cristo come decisiva della vita di Giusani senza la quale non si spiega il suo cammino umano e il bel giorno è quando il suo professore sale in cattedra si chiamava Don Gaetano Corti apre il Vangelo di Giovanni e comincia a leggere il prologo che è l'annuncio di Dio che si fa uomo dell'incardazione del verbo eterno che si è fatto uomo e abita in mezzo a noi Giusani dice ecco quello è il mio bel giorno quella è la risposta al cuore inquieto alla tua di Leopardi e di Don Giusani e dirà Giusani la mia vita è stata letteralmente investita da questo Cristo come risposta alle sue esigenze alle esigenze del suo cuore tutto prende un'altra fisionomia non estingue la domanda che Leopardi gli ha ridestato anzi la potenza diceva il professor Nutt che Don Giusani dalla lettura del libro si vede come da ogni momento lui ha descritto sinteticamente alcune fasi storiche che Don Giusani ha attraversato ma da ogni fase in ogni circostanza storica Don Giusani ha tratto qualche elemento decisivo per la sua vita e lo ha vissuto in modo tale che è diventato possibilità di una strada per altri perché Don Giusani ha imparato dalla storia anzi lui lo disse un giorno per me la storia è tutto io ho imparato dalla storia cioè dalla realtà dal complesso di situazioni e circostanze in cui si è trovato è nato e cresciuto nel novecento con le problematiche accennate non le ha disprezzate e soprattutto dopo la scoperta di questo grande amico Cristo le ha vissute se possibile in modo ancora più problematico che è una caratteristica della vita di Don Giusani è che quando scopre Cristo non è che ha finito la ricerca come solitamente si potrebbe pensare che uno prima ha la ricerca prima ha i desideri prima le attesi prima le domande trova Cristo e la risposta finito e infatti una cosa che mi ha colpito non quando ho scritto il libro ma quando l'ho riletto la prima volta e non io l'avevo scritto ma non me ne ero accorto Don Giusani indica dopo il bel giorno in cui scopre che Cristo è la risposta al bisogno al cuore dell'uomo dice anche da che cosa ha capito che lui era diverso da tutti gli altri uno potrebbe fare il test immaginarsi uno che ha incontrato il cristianesimo ha ricevuto la fede in che cosa è diverso più devoto più pio più religioso più morale Don Giusani dice un'altra cosa dice ciò che mi diversificava da tutti gli altri tutti era la voglia e il desiderio di capire lui dice come? ma se hai trovato la risposta che desiderio di capire hai e invece per Don Giusani il cristianesimo è l'inizio della lotta è l'inizio del dramma della vita e lui lo concretizza la prima volta con la domanda che gli fa un suo compagno quando lui pieno di entusiasmo gli dice questa scoperta che ha fatto e quell'altro gli dice si chiamava De Ponti cioè scusami ma se Cristo come dici tu è tutto ma allora cosa c'entra con la matematica che studiamo a scuola? uno avrebbe potuto dire eh già chi se ne frega della matematica vi ha trovato Cristo e la risposta a tutto e Giussani fa il contrario e dice bella domanda perché non ci mettiamo assieme per cercare di capire cosa c'entra questo Cristo che abbiamo trovato in seminario con la matematica con la letteratura con la storia e con la filosofia un cambiamento che mette un interesse una curiosità un'apertura verso tutto e verso tutti e da questo punto di vista il primo fattore il primo elemento lo avete ricordato entrambi verso cui Giussani si sente trasportato è l'altro la persona l'avete sentito anche nel video la persona ma non la persona come massa ciascuno di voi ognuno che siede su quella sedia in cui è perché per Don Giussani la persona è il punto in cui tutto l'universo si concretizza in un valore assoluto e poche poche settimane dopo la lettera che ha letto Donenio Don Giussani scrive un'altra lettera in cui dice allo stesso amico Angelo Maio io ormai non piango più che per due motivi l'infelicità eterna dei fratelli uomini la loro infelicità terrena segno di quella eterna questo struggimento questa passione perché per Don Giussani Cristo era la risposta alla sua domanda umana di uomo e siccome lo diceva il professore lui era certo di questo questo lo metteva nelle condizioni di incontrare chiunque senza paura senza temere il dubbio moderno che nega ha anche ciò che è evidente e questo gli consente con un certo anticipo sui tempi di cogliere quello sfilacciamento a cui lei faceva riferimento quello sfaldamento di un tessuto umano sociale collettivo ma se ne accorge non facendo un'analisi sociologica se ne accorge facendo il mestiere del prete il sabato e la domenica in una parrocchia di Milano giovanissimo nel 1950-51 confessa confessa dei ragazzi dei studenti liceali e confessandoli si rende conto di un'altra cosa che lei diceva che un'idea cardine di Don Giussani è il fatto che nulla si può dare come scontato e ha parlato di una cultura morta Don Giussani nel 1950-51 si accorge che per quei giovani di famiglie profondamente cattoliche di Milano il cristianesimo è ormai una cosa scontata e da cosa se ne accorge che gli raccontano in confessionale che quando i professori a scuola parlano male della chiesa dei preti della religione della fede loro non sanno cosa rispondere e Don Giussani ha la grande intuizione che a quei ragazzi nessuno ha insegnato un metodo una strada per verificare nel presente quindi in una circostanza diversa da quella passata le verità della fede cattolica che restano imbutabili ma che devono essere offerte in un contesto completamente cambiato e il tentativo di Don Giussani inizia da qui per comunicare a quei ragazzi una strada per cui quello che aveva entusiasmato i suoi 15 anni potesse entusiasmare anche loro 20 anni dopo nel più importante liceo pubblico statale di Milano il liceo Bersche ma tutto inizia per questi dialoghi con questi ragazzi e con uno a cui io attribuisco un peso enorme nella vita di Don Giussani perché di lì a poco la sua vita letteralmente cambierà è una confessione con un ragazzo che si avvicina e dice guardi io non volevo venire ma c'è qui dietro mia mamma dice che mi devo confessare perché tra poco ho l'esame di maturità al liceo classico Beccaria di Milano comincia a dirgli le sue obiezioni il suo non credere più e dice comunque guardi per me l'ideale dell'uomo oggi è il capaneo dantesco questo gigante che Dio ha incatenato all'inferno ma che dice a Dio Dio io non mi posso liberare da queste catene ma tu non mi puoi impedire di bestemmiarti e io ti bestemmio immaginate Don Giussani giovane prete lo lascia sfogare e poi gli dice ma mi scusi le faccio una domanda ma questo infinito questo Dio che lei bestemmia non sarebbe ancora più grande amarlo? pensate che stima doveva avere Don Giussani del cuore di quel ragazzo per vedere sotto la crosta di quello suo negare Dio di questo bestemmiare Dio in chiesa che c'era qualcosa di più che l'uomo non è fatto per odiare il destino ma per amarlo e scommette solo su quello ponendogli la domanda giusta che sarà così decisiva che dopo due mesi quel ragazzo torna e gli dice che ha ricominciato ad andare a messa perché la domanda lo ha roso dentro tutta l'estate lì è l'inizio della svolta nella vita professionale di Don Giussani perché gli viene l'idea che forse il Signore non lo vuole a coltivare il paradiso della teologia ma a scendere nel purgatorio della vita tra i giovani perché si rende conto che nei giovani è il futuro e lì comincia la sua attività la sua sfida educativa introdurre i giovani al senso della vita non imporgli le proprie certezze primo giorno di scuola ottobre 54 io non sono qui perché voi riteniate come vere le cose che vi dico cioè per imporvi le mie certezze ma per insegnare di un metodo per verificare se quello che vi dico è vero che fiducia nell'altro che stima nella ragione nella libertà nel cuore della persona per scommettere così per essere così leale com'è leale la Chiesa che non impone la sua verità la offre a una libertà come dire prova prova se abbracciare la fede ti fa vivere meglio rende più utile la tua vita aumenta la tua curiosità potenzia il tuo desiderio ti rende curioso di tutto e di tutti perché questo è l'inizio del cambiamento della società le persone ridestate così alla vita possono andare a ricerca di altre persone comunicando appunto per testimonianza Don Giussani diceva la cosa più normale per me era il fatto che non sapevamo se la settimana dopo ci saremmo stati ancora dice tanto non per falsa umidità ma per coscienza della nostra pochezza e di chi era che conduceva il cammino della nostra vita per questo molto acuta l'osservazione Don Giussani era capace anche di vedere i difetti lungo il cammino io dico spesso che il più grande critico di comunione e liberazione non è il quotidiano o la repubblica per scegliere uno dei detrattori ma è Don Giussani Don Giussani teneva così alla sua esperienza a un'esperienza integrale del cristianesimo che appena si accorgeva che prendevamo un'altra strada o che pensavamo che da un certo punto in poi il progetto la riuscita il gruppo il potere era il modo per dimostrare che la fede vinceva ci richiamava il problema che noi non avevamo la serietà e la maturità che aveva lui non capivamo noi e alcuni nostri predecessori ma lui non si è mai stancato perché teneva troppo alla sua vita per permettere che qualcun altro la riducesse Don Ennio ha parlato della dedizione piena all'uomo di Don Giussani lo ha raccontato anche come esperienza personale della sua amicizia con lui e subito dopo ha detto che in Don Giussani era decisivo l'amore a Cristo questi due dati sono profondamente legati tra loro e uno dei due viene prima dell'altro bisogna fare molta attenzione a non scambiare i due fattori perché il primo fattore potrebbe essere puramente umano il secondo no senza l'amore a Cristo non si spiega la dedizione di Don Giussani all'uomo proprio per quel bel giorno che gli ha rivolato che Cristo è la risposta al bisogno dell'uomo e che Cristo la Chiesa la religione il cristiano diventano incomprensibili se l'uomo non coltiva il suo bisogno non sente la sua mancanza è questo che lo mette nelle condizioni di guardare con simpatia chiunque c'è un brano in cui Don Giussani per parlare della persona dice che la persona è al di là di tutto di quello che immaginiamo di quello che pensiamo di quello che sentiamo di quello che fa perché è un mistero infinito e dice addirittura io posso e devo amare anche chi mi uccide perché il suo valore personale è più grande della sua cattiveria questo a Don Giussani viene dalla scoperta di Cristo che dà valore infinito alla vita del singolo uomo a dispetto del peccato originale a dispetto della colpa dei progenitori Cristo e la Chiesa e con loro Don Giussani continua a scommettere sull'uomo perché capisce che ogni cambiamento del mondo inizia nell'io nella persona e finisco con la frase citata che Don Giussani amava molto di Pavese l'unica gioia al mondo è cominciare sempre ad ogni istante perché l'istante per Don Giussani è un verticiato soluto dopo il bel giorno col suo professore in seminario a 15 anni dirà l'istante da allora non fu più banalità per me l'istante ogni circola circostanza si carica in Don Giussani di un valore eterno per questo Don Giussani ha obbedito tutta la vita alle circostanze quello che gli capitava perché per lui era il modo con cui il suo Dio il Signore Cristo il mistero chiamatelo come ciascuno di voi chiama ciò per cui dà la vita per cui si alza tutte le mattine cristiano laico laico che sia ecco quel Signore dava senso ogni istante e per questo ogni istante si caricava di un valore innanzitutto positivo per Don Giussani ogni circostanza era un invito a camminare a fare la sua strada e per questo gli era amica in questo senso come Don Giussani ha vissuto la malattia prima da giorni poi gli ultimi anni per me è stata la conferma più eclatante della sua umanità afferrata dall'incontro cristiano fino agli ultimi giorni l'episodio ve lo leggo e poi finisco Don Giussani è stato colpito nel 91 dal Parkinson che ha cominciato a dare i primi segni che l'ha progressivamente invalidato fino fino alla morte immaginate il giugno del 2004 Don Giussani fortemente provato con crampi con trazioni violentissime che lo potevano lasciare insonne per un giorno intero lui che non si lamentava mai di questo si stupivano le persone che lo accudivano un giorno non ce la fa più e chi è con lui lo sente esclamare in un modo violento che giornataccia per una contrazione che gli aveva fatto vedere letteralmente le stelle per un giorno intero ma appena pronunciato questa frase Don Giussani si ferma e aggiunge ma se questa giornata la vivo con la tensione ad attraversare queste circostanze vivendo le occasioni che il mistero permette sono certo che camminerò meglio e più in fretta verso il destino che un giorno vedrò sta pensando alla sua fine sa che di lì a pochi mesi morirà sono certo che camminerò meglio e più in fretta verso il destino che un giorno vedrò molto meglio che secondo tutti i miei progetti per vivere questo giorno perciò questa giornata questa quell'istante che ha definito giornataccia attraversata così con questa consapevolezza che può essere anche di un uomo malato paralizzato a letto e quindi alla portata di chiunque non c'è bisogno di niente di particolare per rivivere la vita che ha vissuto Don Giussani perciò questa giornataccia conclude Don Giussani è bella perché vera la giornataccia che per chiunque potrebbe essere un muro contro cui sbattere imprecando Don Giussani la guarda in faccia dice ma se questa sofferenza mi fa rendere conto che la mia vita non è nelle mie mani che io non posso neanche progettare la scomparsa di questo contrazzo di questo crampo terribile all'alluce del piede se io riconosco che la mia vita è nelle mani di un altro che me l'ha data e la porta al destino ma questa giornata questa giornataccia è bella perché è vera non è un far finta di niente non è un estragnarsi dalla realtà è entrare dentro la realtà fino al punto in cui la realtà diventa segno Giussani ha vissuto così tutta la vita gioie e dolori senza enfasi particolari per questo la sua vita è alla portata di tutti è qualcosa di cui si può parlare io vi ringrazio di quello che avete detto al presente perché ci ha mostrato mostra una strada che è possibile per chiunque fosse anche in un letto d'ospedale se è possibile lì immaginatevi facendo il professore universitario facendo il chimico all'università facendo il monsignore in una parrocchia facendo il sindaco il vescovo il padre la madre di famiglia il figlio è alla portata di tutti perché questa è la grande sfida del cristianesimo che è venuto per chiunque non per i sapienti e gli intelligenti ma per persone che hanno a cuore la propria vita e Don Giussani teneva alla propria vita in modo assoluto perché era l'unica cosa che aveva per camminare verso il suo destino io ho avuto la fortuna da quando Don Caron mi ha proposto Don Caron è il sacerdote spagnolo che Don Giussani scelse dalla Spagna come suo successore che ha preso la guida di CL quando nel febbraio del 2008 a me che non volevo scrivere di Don Giussani perché avevo fatto proposito di non parlare di lui e di non occuparmene tanti erano i ricordi che non troverete nel libro che mi legano professionalmente affettivamente familiarmente a lui allora quando me l'ha chiesto ho capito che c'era di mezzo qualcosa di misterioso perché l'ultima cosa che avrei voluto fare il capo di CL me la chiedeva e ho capito che potevo solo obbedire ecco io vi auguro se qualcuno avrà tempo e pazienza perché il libro è lungo di prendere in mano qualche pagina del libro di rifare l'esperienza che ho fatto io perché io vi assicuro che come loro hanno testimoniato io li capisco in parte perché è stato così per me io che pensavo di conoscerlo attraverso questo lavoro l'ho incontrato di nuovo a un livello di intensità e profondità che prima non mi era stato possibile e quindi se è stato possibile che sia successo a me dopo anche a chi non l'ha mai conosciuto o frequentato forse qualche cosa può dire alla vita di ciascuno grazie grazie davvero a tutti riprendo solo un'ultima di queste frasi da quel giorno l'istante non fu più banalità per me perché carico di eterno ecco che bellezza che densità di significato può assumere la vita con questo respiro è una cosa che può accadere per tutti anche attraverso un'occasione come quella di stasera sul banchetto qui sulla mia sinistra c'è la possibilità di acquistare il libro che abbiamo presentato stasera vita di Don Giussani altrimenti si può acquistare presso la libreria Federico II la libreria che si trova a fianco della chiesa di San Pietro qui a Giulianova al banchetto si può acquistare anche un altro testo che è la riedizione di una intervista fatta dal giornalista Robi Ronza a Don Giussani è un'occasione per sentire raccontare direttamente da Don Giussani l'origine il senso e lo scopo della sua opera troverete anche copie del mensile tracce la rivista ufficiale del movimento di comunione liberazione sulle sedie avete trovato dei fogli che presentano il prossimo meeting dreamini dal titolo verso le periferie del mondo e dell'esistenza il destino non ha lasciato solo l'uomo che si svolgerà dal 24 al 30 agosto il meeting è un'occasione straordinaria per vedere raccontati dico vedere raccontati di vedere prima e oltre che ascoltare una positività di costruzione una fecondità di azione una creatività appassionata che senza dimenticare o ignorare nessuno dei problemi e dei drammi del vivere quotidiano dei singoli e dei popoli esprime racconta mostra come la compagnia di Cristo agli uomini è fonte di una letizia e di una certezza capaci di generare di costruire il bene per tutti gli uomini infine nel ringraziarvi ancora per l'attenzione e nel ringraziare a Donegno il professor Nuzzo e il dottor Savorana per chi volesse incontrare l'esperienza di comunione e liberazione a Giulianova in questo periodo estivo tutti i mercoledì sera alle 21.15 celebriamo insieme la Santa Messa presso la Chiesa di San Pietro e infine ringrazio tutti gli amici che con il loro lavoro hanno permesso la realizzazione di questa serata grazie ancora grazie